La ricerca sull'immunoterapia applicata all'oncologia ha conseguito un importante traguardo perché proprio in questi giorni è disponibile anche in Italia un preparato che sfrutta proprio questi principi per la cura del melanoma. Facciamo il punto più in generale sulla immunoterapia col professor Giorgio Parmiani, direttore dell'unità di immunobioterapia del melanoma e tumori soliti dell'Istituto Scientifico Fondazione San Raffaele di Milano. Allora professore prendiamolo un po' dall'inizio. Innanzitutto che cos'è l'immunoterapia e su quali principi si basa? L'immunoterapia si basa sul principio di attivare il sistema immunologico che è un sistema capace di riconoscere e distruggere batteri o virus e di allenarlo a riconoscere e distruggere anche le cellule tumorali. Come si fa per raggiungere questo obiettivo così ambizioso? Questo obiettivo si raggiunge conoscendo bene come funziona il sistema immunitario e manipolandolo in modo tale che questo si rivolga anche non solo ai germi ma anche alle cellule tumorali e quindi le riconosca come strane e tenda ad eliminarle. Ecco l'Italia nell'ambito dell'immunoterapia è l'avanguardia a livello mondiale. Come mai professore? L'avanguardia o perlomeno tra i primi stati nel mondo perché c'è una storia degli ultimi decenni in cui diversi gruppi di ricerca nelle varie città italiane soprattutto anche negli istituti oncologici hanno coinvolto molti dei loro ricercatori in questo approccio e questo è stato anche favorito da finanziamenti nel passato e dalla presenza di alcuni centri coordinatori o associazioni come Nibit che è stata creata proprio per favorire integrazione tra ricerca preclinica e clinica con lo scopo di produrre protocolli capace di indurre la regressione dei tumori. Ecco adesso col suo aiuto vorrei passare in assegna alcuni dei farmaci più importanti che si basano sull'immunoterapia. Incominciamo dall'ipilimumab che è il farmaco di questi giorni appunto per il melanoma. Come funziona questo farmaco? L'ipilimumab è un anticorpo che impedisce il freno del sistema immunologico. Il sistema immunologico si attiva, riconosce batteri o al virus e poi però deve disattivarsi altrimenti rischieremo tutti di essere auto eliminati dal sistema immunitario. Per frenare mette in campo una molecola che si chiama CTLA4 che viene vista da questo anticorpo ipilimumab e in questo modo viene rallentato la frenata diciamo del sistema immune. Cioè il sistema immune continua a funzionare come se non fosse stato frenato da questa molecola. E va a colpire le cellule cancerogene e il melanoma. Certo, essendosi attivato intensamente per lungo tempo grazie alla somministrazione di ipilimumab diventa capace di vedere, riconoscere e eventualmente eliminare le cellule del melanoma. Ecco, rimanendo sul melanoma ci sono altri esempi già non ancora disponibili come farmaci in terapia ma in fase avanzata di studio, altri esempi di farmaci che sfruttano immunoterapia. Quali sono? Beh, certamente ci sono alcuni vaccini che combinati con sostanze che si chiamano citochine, ad esempio l'interlequina 2, hanno dato dei buoni risultati e dimostrato che questa combinazione di vaccini con citochine e noi speriamo che questo possa accadere anche con la combinazione con ipilimumab hanno dato un vantaggio terapeutico ai pazienti trattati in questa maniera. Ecco, cambiando completamente il tipo di tumore, quindi qui siamo nel campo del tumore alla prostata, negli Stati Uniti è già in commercio da almeno un anno il sepeleucil, un farmaco appunto immunoterapico, non sappiamo se arriverà in Europa anche perché costa 500 mila dollari l'anno, quindi è un costo veramente stratosferico, però a parte i costi come funziona questo farmaco? Beh, questo è un farmaco, è un vaccino vero e proprio in cui bisogna prelevare delle cellule del sistema immunitario del paziente, caricarle come diciamo noi, cioè di una particolare sostanza immunostimolante, dopodiché tutto viene rinoculato nel paziente e si è visto che, paragonando pazienti con tumore alla prostata trattati in questa maniera, con pazienti non trattati in questa maniera, si è ottenuto un beneficio statisticamente rilevante. Il problema, come si diceva, è il costo e la complessità di questo trattamento. Ecco, per finire da quello che abbiamo letto, anche nei linfomino-notchkin sono farmaci in studio che sfruttano immunoterapia, di che cosa si tratta? Sono farmaci costruiti sulle caratteristiche delle cellule del linfoma, diciamo così, e possono essere somministrati in pazienti che hanno avuto magari prima una chemioterapia, la chemioterapia riduce il volume del tumore e poi utilizzando questi vaccini si riesce a mantenere i pazienti senza malattia per un tempo abbastanza lungo. Professor Parmiani, per chiudere, ecco, che futuro vede per l'immunoterapia e quando, secondo lei, sarà più opportuno utilizzarla nelle fasi iniziali, nelle fasi avanzate, in concomitanza con la chemio? Come immagina il futuro di questo approccio? Beh, è un approccio che si presta alla combinazione con diverse altre molecole terapeutiche, con la chemioterapia e con altri farmaci biologici e questo è già in corso, quindi noi pensiamo che l'ipidimua sia uno di quei farmaci che ha aperto la strada, è un farmaco immunomodulante, lo definiamo, cioè che cambia, modula il sistema immunitario per renderlo più aggressivo nei confronti del cellulo tumorale. Questo è stato sperimentato fino adesso soprattutto in pazienti in stadio avanzato, ma noi pensiamo sia importante, e gli studi sono già in corso, dirigerlo anche questo farmaco nei confronti di pazienti con un tumore iniziale per impedire che ci sia poi tutta una successione di eventi che in genere si concludono con sofferenze e qualche volta con la morte del paziente. Quindi è positivo nei confronti di questa disciplina? Sono positivo, avendoci lavorato per parecchi anni, avendo anche attraversato momenti di disillusione, soprattutto negli ultimi dieci anni si era creata a un certo punto una sfiducia nei confronti all'immunoterapia perché nella clinica l'immunoterapia non aveva dimostrato una grande efficacia. Oggi con gli studi che abbiamo citato prima come esempio e con altri studi che saranno disponibili nel giro di pochi anni la situazione si è rovesciata e recentemente a Firenze si è parlato del rinascimento dell'immunoterapia nei tumori.